ecco alcune sue particolari e innovative funzioni una semplice funzione Take Focus permette di scegliere l'editor nel quale scrivere e sostituisce egregiamente il tasto Tab alla pressione scegliere l'editor e poi è possibile iniziare a scrivere oppure spostare il focus e affidare la scrittura a un altro editor ecco con molta semplicità è possibile passare da un editor all'altro sono disponibili alla scrittura tutti i programmi con editor di Windows e di altri programmi esterni all'ambiente Windows